buongiorno buongiorno di nuovo amici dei amici dei social ebbene devo dire che facebook mi ha chiesto scusa niente voi sapete che qualche giorno fa avevo pubblicato un aforisma ed era stato ritenuto un po spinto diciamo un po forse volgare non so come definirlo fatto sta che avevano deciso di bloccarmi addirittura fino al 9 luglio ovvero giusto un mese ebbene proprio ora è giunta la notizia che c'è stato un tragico errore ovvero il mio aforisma non ha nulla di spinto e di volgare ed è a tutti gli effetti visibile quindi non verrà oscurato io non so chi ha potuto fare tutto questo devo dire che ora sono nuovamente operativo niente detto ciò ne approfitto per per ricordarvi l'appuntamento questa sera alle ore 21 con l'arte contemporanea di carlo vanoni mi mi raccomando seguitelo anche perché il buon carlo voi sapete che il mese di agosto andrà tutto il mese in ferie quindi queste sono diciamo tra virgolette le sue ultime puntate prima della lunga vacanza e vi invito veramente di cuore a seguirlo anche perché il lunedì veramente carlo vanoni come da sempre ci fa sognare e addirittura penso che ci saranno opere straordinarie e importanti d'altronde voi sapete che a metà giugno c'è la fiera internazionale di art basal e bene come ogni anno carlo andrà anche quest'anno e devo dire che senz'altro ne vedremo delle belle gli artisti che ci ci ha consigliato gli ultimi anni devo dire che sono stati tutti lì presente in fondo lui è avanti almeno di dieci anni quindi per chi vuole vorrebbe fare un investimento vi consiglio di seguire specialmente la trasmissione del lunedì che ci saranno opere veramente che si ripotranno valutare intanto vi saluto vi auguro una buona serata un buon inizio settimana a tutti gli amici dei social a presto vi auguro un po'